Mobilificio Randazzo, se non compri mincazzo, buonasera, mi dica tutto. Buonasera, senta, io volevo un preventivo per... preventivo? Ha detto preventivo? Sì, vorrei un preventivo per quella... preventivo? Sì, per quella cucina. Preventivo, lei dice. Quindi lei vuol dire che se io le faccio un preventivo, lei poi ci pensa. Questo è quello che vorrebbe farmi capire, dico giusto? Ma in realtà un preventivo per capire... per capire che cosa? Mi dica, per capire che cosa? Dio santo! Ma io ho quella cucina da 18.000 euro, un preventivo? Lei dovrebbe chiamarmi invece per dirmi vorrei lasciare una caparra per quella cucina da 18.000 euro dove non le farò neanche lo sconto. Ma io in realtà come caparra... va bene, allora vorrei dare una caparra per quella cucina... Oh, benissimo, una caparra per quella cucina, benissimo, quella da 18.000 euro. Benissimo, non la personalizzeremo ovviamente, gliela diamo così come... e lei se la monterà. Ma in realtà io... vabbè... comunque una caparra... quanta caparra vorrebbe darmi, sentiamo. Ma io, guardi, veramente volevo fare un finanziamento, un finanziamento? Finanziamento? Quindi lei vorrebbe dirmi che vuole fare un finanziamento? E se poi lei è un bruciato? E se lei è un criff? E poi ci vogliono i garanti e tutte le storie? Lei dovrebbe dirmi, voglio pagare in contanti. Questo è quello che vuol dire. Sono al mobilificio Randazzo e se non compri, mi cazzo, fa il culo, non la voglio come cliente. Arrivederci. Click. Alla prossima.